ciao a tutti oggi prepareremo il tiramisu al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di riposo in frigo gli ingredienti sono mascarpone crema di pistacchi savoiardi latte caffè e granella di pistacchi andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere la crema di pistacchi il mascarpone ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 3 la crema è pronta componiamo il tiramisu mettere il caffè e il latte in una teglia fare un sottile strato di crema bagnare i savoiardi nel latte e caffè e posizionarli sulla crema formando uno strato mettere uno strato di crema e livellare bene formare un altro strato di biscotti abbiamo messo il resto della crema in una sacca a poche adesso ricoprire i savoiardi con il resto della crema spolverizzare con la granella di pistacchi riporre in frigo per almeno quattro ore tirami su al pistacchio grazie e alla prossima ricetta riporre in frigo per alitzer low uso logro visci attrazie attrazione worshin' Grazie a tutti.